buongiorno a tutti oggi vorrei farvi un video in cui vi parlo dei miei cinque ne ho scelti cinque perché forse ne avrei di più però non volevo fare un video troppo lungo rossetti nude preferiti io non sono proprio un amante dei nude e anzi spesso i nude che scelgo per altri sarebbero già dei rossetti piuttosto vistosi però ho cercato di trovare quelle nuance che rientrano nella mia comfort zone di nude e che potrebbero piacere anche a qualcun altro insomma si tratta di un matitone due rossetti liquidi e due rossetti classici partiamo dal matitone che è questo della nude sticks che se vi ricordate avevo trovato nel calendario dell'avvento di look fantastic dello scorso anno è questo tra l'altro molto comodo perché contiene anche un temperino quindi c'è la punta col temperino e la punta che apre il matitone il colore ve li faccio vedere qui è questo qui ed è un malva opaco comunque un nude un po' freddino vedendo questo voi già capite qual è la mia idea di nude la mia idea di nude non è un color beige correttore perché essendo io già molto bianca se metto dei rossetti troppo chiari sembro morta sono i rossetti che definisco color Laura Palmer quindi su di me secondo me non stanno molto bene il secondo prodotto che vi mostro è quello che indosso in questo momento e che è un lip couture della LA Splash ve ne avevo già parlato un bel po' di tempo fa il colore in questione è Latte Confession e a me piace moltissimo simile al nude sticks ma con una punta più rosata trovo che sulle labbra abbia un effetto veramente bello non propriamente nude qualcuno potrebbe obiettare il fatto che questo non sia un nude perché enfatizza fin troppo le labbra però ecco questa è la mia concezione di nude dei rossetti non particolarmente scuri non particolarmente accesi che vanno a colorare le labbra un pochino perché se sono troppo smorti mi ammazzano e quindi sulla stessa falsariga vi faccio vedere anche questo di Clio uno dei suoi come si chiamano creamy love se non ricordo male di cui non apprezzo particolarmente il packaging mi piace l'idea dell'oro rosa ma scatolette e tutto mi ricorda un po' troppo dei prodotti per bambini ma che mi piace moltissimo sia nella texture che nella colorazione il colore è my lips but better ed è questo qui questo tra l'altro l'ho indossato anche per un matrimonio ha avuto un'ottima durata e una texture molto confortevole che devo dire che mi piace moltissimo sempre più o meno in tonalità questo con una punta di rosa ancora più accentuata rispetto a latte confession rimanendo sui rossetti cambiamo un po' perché questo in realtà è più chiaro almeno secondo me ha sempre una texture piuttosto confortevole ma una tonalità più chiara e anche un sottotono più caldo e sto parlando di Miss Grace di Mulac Cosmetics Miss Grace fa parte della collezione Comen che è la collezione che va a versare una parte dei proventi della vendita alla associazione per la cura del cancro al seno se non ricordo male la collezione è la Comen non so se l'ho già detto l'Alzheimer qua qualcuno dovrebbe devolvermi qualcosa per l'Alzheimer se vado avanti così comunque il colore è questo è più chiaro di quelli che abbiamo visto in precedenza e su di me assume anche una tonalità leggermente più calda non caldissima perché su di me secondo me i colori troppo marroncini aranciatini non stanno benissimo però devo dire che questo non mi dispiace affatto contiene acido ialuronico nella formula e quindi 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 niente però è molto confortevole e vedete che rispetto agli altri ha anche un finish leggermente più lucidino perché è molto è molto morbido e molto cremoso l'ultimissimo prodotto che vi mostro è un non mi ricordo neanche come si chiamano questi Everlasting Liquid Lipstick ecco della Kat Von D ed è il famigerato Lolita che risulta piuttosto simile visto così al primissimo prodotto che vi ho fatto vedere ovvero al Nudestix ma che una volta steso sulle labbra almeno su di me assume una tonalità malva piuttosto fredda con una punta quasi di violaceo che a me piace tantissimo e trovo che renda elegante su queste cose rende elegante tutti i make up comunque ecco su di me lo trovo abbastanza elegante quindi mi piace indossarlo quando voglio realizzare un make up un po' sofisticato e basta questo è quanto spero di essere stata abbastanza stringata questi sono i cinque prodotti per le labbra i miei cinque nude preferiti di questo periodo ne avrei avuti anche altri da mostrarvi in realtà ma sarei caduta un po' nella banalità dei sempre gli stessi volevo far vedere anche qualche non esageriamo nuova scoperta perché solo quello di Clio alla fine è un prodotto relativamente nuovo gli altri non sono di certo delle novità nel panorama beauty però sono quelli che io sto utilizzando un pochino più volentieri ultimamente e quindi mi faceva piacere mostrarvi se avete qualche altro nude su questa falsa riga da consigliarmi fatemelo pure nei commenti oppure fatemi sapere quali sono i vostri nude preferiti e se siete delle fan dei rossetti color Laura Palmer oppure no e niente questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao